Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi venerdì, solita promo in uscita su fifa, nuova in questo caso, parliamo dei what if, un qualcosa che non si era mai visto prima d'ora su fifa, quindi andiamo prima di analizzare le carte ad analizzare proprio la promo, solito video un po' più lungo del solito, mettetevi comodi e gustiamocelo insieme. Eccoci qui, quindi what if, cosa sono gli oggetti giocatori dinamici S? I giocatori S sono oggetti dinamici potenziati che potrebbero ottenere un ulteriore bonus tot più 2 una sola volta nel caso in cui la loro squadra dovesse soddisfare i criteri e gli scenari del S basati su eventi reali. In che modo gli oggetti giocatori S vengono aggiornati? Gli attaccanti centrocampisti si aggiornano se la loro squadra segna almeno 6 gol in totale nelle prossime 5 partite di campionato, difensori portiere si aggiornano se la loro squadra non prende gol in almeno una delle prossime 5 partite di campionato. Quando inizia l'evento S, avrà a partire dal giorno e dall'ora in cui i giocatori saranno disponibili su foot, quindi da oggi, se una squadra gioca in campionato lo stesso giorno dell'uscita di un oggetto quella partita conterà solo se il calcio d'inizio è previsto dopo. Quali partite vengono prese in considerazione? Solo le partite di campionato. Dopo che un giocatore è se soddisfare i requisiti per ricevere l'aggiornamento verrà rilasciato il mercoledì successivo. Non avranno ulteriori aggiornamenti. Cosa succede se un giocatore cambia squadra o viene messo fuori rosa? Non riceveranno più aggiornamenti in futuro. Quindi questo è lo scenario del aggiornamento che ricevono queste carte. Andiamo a vedere quali sono nello specifico queste carte. Primo giocatorino è Ngolo Kanté. Ngolo Kanté, insomma, non vi devo presentare io, quest'anno non lo abbiamo avuto Toti. Ci arriva What If, potenzialmente quindi un 93. Il 93 riceve chiaramente dalla versione If un boost significativo per quanto riguarda la velocità, un boost anche per quanto riguarda quelle che sono le statistiche di passaggio che non fanno mai male. Infatti andiamo ad avere un 89 di corto e un 83 di lungo che sono molto molto utili. Statistiche di dribbling clamorose, agilità, reattività eccetera. Quindi questo con l'L2 è una macchinetta. 93 di aggressività vuol dire che si attacca all'avversario e non lo molla fino a quando non gli strappa via il pallone. Giocatore veramente tanta tanta roba che scavalca sensibilmente quelle che sono le gerarchie attualmente in centrocampo. Secondo me diventa meglio di Renato Sanchez, un pelo sotto a Bruno Potm che è un po' più quadrato, meno difensivo, ma probabilmente è al momento uno dei top centrocampisti in circolazione e non oso immaginare nel caso in cui dovesse ricevere l'upgrade. Quindi tanta roba il buon Gologantè. Chris Molling, un'altra carta molto molto interessante per le serie A soprattutto. Soprattutto l'aggiornamento da parte dei what if difensori e portiere è molto più facile a mio avviso rispetto a quello degli attaccanti. Quindi carta molto molto interessante, parametro di velocità un po' fake in quanto quel 75 di accelerazione vuol dire che sul lungo un po' va a perdere. Sul primo passo va a perdere per poi recuperare sul lungo, ma sappiamo che magari quest'anno cedere sul primo passo rischia di diventare un attimino pericoloso. Abbiamo poi quelli che sono statistiche di passaggio, che per un difensore non sono manco male con l'82 di corto e l'80 di lungo, statistiche difensive che ovviamente sono tanta tanta roba e anche quelle di fisico. Parliamo di un difensore che secondo me anche in ottica upgrade si va a piazzare esattamente al secondo posto in una mia personale classifica di gradimento di difensori, visto che parliamo di un giocatore di 1,94 e che è secondo solamente al buon Coulibaly Europa, anche se questo qui è levemente un po' più veloce. E terzo, se vogliamo andare a considerare, è anche Teo Hernandez spostato da difensore centrale in quelle che sono le sue varie versioni. Abbiamo poi Rafinha, una SBC prezzo più o meno 400k. Questo qua molto molto buono, perché abbiamo visto in passato come mancano effettivamente quelli che sono esterni a destra, sia nel gioco in generale ma soprattutto in Premier League dove abbiamo solo Salah che ha il problema del treppiede debole. Anche in questo caso il buon Rafinha ha treppiede debole, ma rispetto a quelle che sono le versioni top di Salah costa meno e può upgradarsi. Quindi andrei in quel caso a preferire lui, però è un SBC che costa sicuramente tanto. Onestamente, 400k in un periodo in cui abbiamo veramente un'abbondanza di carte che si apprestano a essere rilasciate, nonostante tanta roba alla velocità, tanta roba a statistiche di tiro con 90 di power e un po' meno la finalizzazione con 81 che scarseggia. Agile risulta sicuramente agile grazie anche all'1,76 di altezza e al 70 di forza. Statistiche di passaggio che vedono un ottimo corto e un lungo un po' deficitario, ma comunque parliamo di un giocatorino che Statistiche alla mano non è male, ma 400k per un giocatore del genere, anche se l'alternativa top, tra virgolette, Saka, che costa tanto, onestamente non le andrei a investire in questo momento del gioco. Altra carta molto molto valida è il buon Sancio. Sancio 5 di skill, 3 di piede debole, quindi sempre un problemino per quanto riguarda questo attributo. Veloce ovviamente è veloce, rispetto alla sua carta base che era stata molto downgradata rispetto all'anno scorso, riacquista velocità soprattutto in ottica upgrade. Potenza tiro 80 un po' poco, onestamente, mentre la finalizzazione è tanta roba. Passaggio corto ottimo, il lungo un po' meno. Agile ovviamente, tanto tanto agile, visto che ha 75 di forza e comunque un body type, come andiamo a vedere, average. Quindi, ottimo giocatore questo Sancio, secondo me non vale quella che è la spesa, perché un milione, insomma, mi sembra un po' tantino per una carta che comunque ha 3 di piede debole, però ovviamente da esterno il suo lo fa alla grande e sono anche curioso di vedere le statistiche dopo un'eventuale upgrade. Martin Odegaard, nella sua versione transfer all'arsenal, trequartista, 88 di overall, riceve un bel boost. Anche qui però abbiamo 3 di piede debole, raga, hanno fatto uscire tutte le carte un po', un po' questo piede debole che le va un pochino a, insomma, rendere ambigue, devo dire la verità. 500k per un trequartista che sì si andrà ad upgradare, sia buone statistiche di velocità, sia ottime statistiche di passaggio, chiaramente, anche ottime statistiche di tiro, ottime statistiche per quanto riguarda anche agilità e attività, eccetera, eccetera, 1,78, 70 di forza, ottimo giocatore, il buon mattino Odegaard a livello statistico, prezzo che non è neanche esagerato, però la concorrenza per quanto riguarda la Premier League, andando soprattutto a spostare giocatori in quel ruolo, come può essere magari un Marets Headliner per quelli che l'ha sbloccato, insomma, andrei a preferire sempre l'altro giocatore, quello inglese. Quindi Odegaard, diciamo, promosso ma con riserva per colpa del piede debole. Kevin Babu, questa anche qua è una gran carta, gran carta perché Babu ci ha abituato negli ultimi anni a ricevere queste versioni extra bustate, l'unico problema è la sua ibridabilità, anche se comunque quest'anno giocatori ce ne sono, penso magari ad Akanji, eccetera, eccetera, che gli permettono di avere un buon link. Abbiamo 3 di mosse abilità e 3 di skill, ma per un difensore esterno di difesa non sono un grosso problema, 1,84, passaggio corto, ok, lungo, molto rivedibile, velocissimo, 84 di forza, pecca un po' in quella che è l'aggressività, statistiche difensive che invece sono al posto giusto e anche 85 di agilità, quindi vuol dire che con l'L2 bene o male i suoi movimenti per scivolare sul campo li fa in maniera abbastanza discreta. Quindi bel giocatorino questo Babu, sicuramente un terzino molto molto valido che si iscrive all'interno di quello che è l'albo dei terzini forti meta utilizzabili del momento. Abbiamo poi l'Esmelu, insomma, 78 di velocità, penso che ci siamo detti già tutto, 125k, penso banalmente a poco in più, 100k in più, Renato If, se lo mette tranquillamente in tasca il buon l'Esmelu con o senza upgrade del What If. Bella carta è sto Papu Gomez, Papu Gomez veramente giocatorino non male, 4-4, parliamo di una carta che costa un milione però, della Liga, quindi comunque ibridabile così e così, però tanta tanta roba, molto veloce, 83 di potenza tiro un po', quindi deficitaria però l'87 di finalizzazione è ottimo, tanta roba ai passaggi, questo qua è una furia, raga, a livello di agilità con i micromovimenti, con l'analogico lasciate perdere questo vola, 1,67 con 53 di forza, body type, in questo caso short and lean è un demonio, è come Messi praticamente qua a livello di body type per farvi un paragone, quindi si gira e si rigira su se stesso, io lo andrei a utilizzare, non lo andrei a comprare perché costa tanto, sovrapprezzato, però se ve lo ritrovate, trequartista lo potrei pensare di utilizzare anche da seconda punta, magari non da esterno perché è un po' piccolino, però bella bella carta. Abbiamo poi Caputo che è nella versione obiettivo, quindi per quelle volte che parliamo di carte obiettivo sapete quello che ne penso, carte obiettivo gratuite anche per fare qualcosa in settimana, sempre da andare a sbloccate, poi sto Caputo non ha preso il toti che fa, il what if non lo sblocchi, dai è un peccato, statistiche di velocità che sono buone, ottima la potenza tiro alla finalizzazione, passaggi un po' così così, agilità molto molto agile, penalizzato un po' da quello che è l'85 di forza che lo appesantisce, è visto anche il body type che è un body type lean. Abbiamo poi Jovic, anche qui una carta insomma che trova, lascia un po' il tempo che trova, nonostante abbia 4 di skill e 5 di weak foot, ma parliamo di un giocatore di 1.82 con un body type, in questo caso Average con 86 di forza, quindi molto piazzato, molto piantato, difficilmente si gira con agilità, non è neanche così veloce, statistiche di tiro che per carità sono buone, ottima la potenza e la finalizzazione, passaggio corto ok, lungo 0, agilità che come vi dicevo è penalizzata dalla forza, con Pojure la freddezza 87, tuttavia vi ripeto non è un giocatore che credo possa trovare spazio all'interno delle nostre rose di Ultimate Team. Yuri Bercice, questo qui anche mi sembra molto interessante perché è un terzino sinistro, va a fare un po' concorrenza a Mendy, anche se Mendy ha dalla sua libridabilità con Varane, non costa tantissimo, costa 160k e in ottica upgrade potrebbe essere anche abbastanza interessante, ripeto. Veloce, veloce, ha anche degli ottimi passaggi a differenza di Ferland Mendy, agile e agile, quindi con l'L2 scivola bene, 84 di forza e 89 di aggressività sono molto buoni, parametri difensivi ovviamente, tanta roba, in ottica anche upgrade questo diventa molto interessante da seguire e da osservare quelli che sono gli sviluppi su questa carta. Marcelo, quello fake, ahimè, perché purtroppo non è il Marcelo che ci aspettavamo, insomma un difensore centrale con 75 di velocità in questo gioco, brasiliano della Ligan, voglio dire, direi abbastanza next senza perderci più di tanto tempo, carta molto sfiziosa invece è questo Roberto Pereira, perché parliamo di un 4-4 della serie A argentino, 130.000 crediti, quindi non tantissimo, è veloce, ha un buon tiro, ha degli ottimi passaggi, ha un'ottima agilità, quindi tanta tanta roba questa carta di Pereira, che sicuramente va a fare a concorrenza a quelli che sono i vari, al Sharawi, al Buon Insigne, su quella fascia lì si pone sicuramente in una situazione di, secondo me non dico primordine, ma è secondo solo a del Sharawi per via del 4 di skill e non del 5. Mi aspettavo, devo dire, un po' di più da questo primo team dei What If, la promo, devo dire, è simpatica per come è stata impostata, Kante è l'unica carta che spicca, assieme magari a Smalling in termini di utilità, poi ci sono Babu, Papu Gomez, un po' di carte interessanti, ma nessuna carta game changing, quindi aspettiamo quello che è il team di settimana prossima, perdonatemi se sto video è uscito un peleo in ritardo, ma ero impegnato in quella che è la telecronaca del Mondiale per Club, e vi aspetto domenica per le finali, visto che abbiamo un team italiano, impegnato a partire dalle 14, vi ringrazio per la visione del video, vi ricordo di lasciare un like e un commento, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma viola, a me non resta altro che augurarvi una buona serata ragazzi, ciao ciao!